ciao amici del my lab oggi parliamo del carico glicemico dei cibi ovvero con carta e penna come faccio a prevedere a tavolino se un certo alimento mi darà un picco glicemico o no interessante vero questa cosa l'ho già spiegata in un video ma era un po teorico allora adesso rimedio facendo un video molto molto pratico d'accordo e facciamo un esempio un esempio inventato supponiamo che tu debba prendere un certo cibo e diciamo che tu dica guarda voglio mangiarmi questi 100 grammi di questo cibo qui da qualche parte su internet troverai facilmente la tabella che ti dice quanti carboidrati contiene non quanti zuccheri quanti carboidrati contiene d'accordo e quindi supponiamo che questo fantomatico cibo che tu devi mangiare contenga il 50 per cento di carboidrati allora lui pesa 100 la porzione che ti vuoi mangiare pesa 100 50 per cento di carboidrati sono 50 grammi di carboidrati facile fino a quando ora l'indice glicemico lo sto supponendo mettiamo che sia il 70 70 per cento o 0 7 o 70 a seconda di come lo vuoi esprimere quindi ti dice che questi 50 grammi di carboidrati si comporteranno come il 70 per cento di quel peso in glucosio il 70 per cento di 50 grammi sono esattamente 35 il numero è 35 quindi il carico glicemico di questa cosa che pesa 100 grammi contiene 50 per cento di carboidrati a in con indice glicemico 70 a un carico glicemico pari a 35 la regola dice che il carico glicemico deve essere inferiore a 10 per non darti un picco glicemico ecco qua la regola deve essere inferiore a 10 se vuoi che questa porzione non ti dia un picco glicemico nel caso di questo fantomatico cibo siamo arrivati a 35 picco glicemico garantito ok quindi riassumo la formula e te la metto qua la slide cartacea così nessun rompiscatole si metterà a farmi i conti in tasca dicendo che ho sbagliato tutto la formula dice che il carico glicemico questo numero si calcola così il quantità di carboidrati che alla porzione che ti stai mangiando moltiplicato per l'indice glicemico di quel alimento d'accordo ti faccio notare che non so il finocchio o altre verdure del genere sono molto ricche di carboidrati ma molti di quei carboidrati non sono affatto zuccheri sono fibre e infatti hanno un indice glicemico che si fa fatica perfino a scrivere tipo potrebbe essere 6 o 7 per cento non 70 non so il numero esatto ma davvero il piccolissimo ci vorrebbero probabilmente un paio di camion rimorchio pieni di sedani per farti venire una iperglicemia decente quindi ecco svelato come si fa a calcolare al tavolino se questi cibi a un certo punto ti daranno un picco glicemico o no a proposito ti lascio con un quiz questa è una marmellata di lampone secondo te questa marmellata di lampone il cui principale componente è il lampone e quindi frutta secondo te dico ha un carico glicemico elevato o meglio ha un indice glicemico elevato oppure no dai indovina e dimmi la tua opinione ciao e al prossimo video ma non dimenticarti di condividerlo e di farlo sapere a tutti quanti che c'è questo canale chiamato my lab experiment d'accordo hasta la vista ciao 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 ciao